Ciao riders e ben arrivati sul canale di Bikes4Eddy, io sono Eddie e oggi vi voglio raccontare la storia di uno dei miei grandi idoli, quindi mettetevi comodi, prendetevi una bella tazza di tè della California e ascoltate la mia storia di Steady Eddie, al secolo Eddie Lawson. Eddie Lawson è un pilota californiano nato l'11 di marzo del 1958 vicino a Los Angeles che nel corso della propria carriera ha vinto la bellezza di quattro titoli mondiali, attualmente è il pilota americano che ha vinto più di tutti, ha fatto delle cose assolutamente straordinarie tipo vincere per due anni consecutivamente con due moto differenti il titolo del mondo, prima con Yamaha e poi con Honda. Nel corso della propria carriera, me lo sono appuntato qua perché non me lo ricordo a memoria, Eddie ha vinto quattro titoli mondiali, ve l'ho appena detto, ha partecipato alla bellezza di 130 gare, ha ottenuto 31 vittorie totali, 78 podi e 18 pole position, ma soprattutto si è meritato il nome, il soprannome di Steady Eddie, ovvero di Eddie sempre in piedi, proprio perché all'interno della propria carriera sono pochissime le volte in cui è caduto, fatta eccezione per un paio di gravi infortuni che gli sono occorsi nel 1990 e che molto probabilmente gli hanno impedito di conquistare il quinto titolo nuovamente con una moto differente. Andiamo a vedere con calma la sua storia sportiva e entriamo nella prima sezione di questo nuovo video. Eddie Lawson inizia a gareggiare, come tutti gli americani, ve l'ho già raccontato, la scuola americana, il flat track e il dirt track, appunto all'interno di gare su terreno scornesso con delle moto, prima da flat track e poi da dirt track, vincendo assolutamente tutto. Infatti all'inizio degli anni 80, nello specifico nel 1981 e 1982, in sella la Kawasaki non ha rivali e conquista immediatamente per due anni consecutivamente il campionato AMA Superbike e lo fa contro campioni del calibro di Randy Mamola, Freddy Spencer, Kenny Roberts, tutti poi ritrovati all'interno anche del moto mondiale. La carriera di Eddie Lawson a questo punto è pronta per decollare. Fin da subito Eddie si rivela un fuoriclasse, davvero un talento. Il suo stile di guida impressiona immediatamente tutti, più o meno su tutti i tipi di terreno e di conseguenza è pronto per fare il grande salto di qualità. La chiamata nella classe 500 arriva da parte di Giacomo Agostini che nel 1983 sta gestendo un team di satellite con le Yamaha 500 YZR e ha bisogno di un nuovo pilota. Eddie Lawson ovviamente accetta l'offerta e si presenta all'onore delle cronache della MotoGP e soprattutto per cercare di contrastare i piloti americani e i piloti europei con un mezzo assai competitivo. Purtroppo il 1983 è l'anno che consacra un altro grandissimo mito americano su cui molto presto pubblicherò un video e cioè Freddy Spencer. Eddie Lawson utilizza tutto l'anno per imparare circuiti e soprattutto fare esperienza su una moto che per lui è completamente nuova. Nell'inizio della nuova stagione, quella del 1984, Eddie dichiara immediatamente di voler competere per il titolo. Infatti il primo titolo del mondo arriverà proprio nel 1984 grazie a quattro vittorie che possono sembrare pochi ma quello che immediatamente inizia a impressionare tutti, team manager e pubblico, è il fatto che Eddie sia un pilota straordinariamente costante. Non è un pilota dall'andamento altalenante, parleremo più tardi di piloti che avrebbero dovuto vincere dei titoli mondiali ma che non sono riusciti e quindi l'hanno lasciato in mano a Eddie Lawson, che ha fatto di questa sua grande caratteristica, cioè la costanza, uno dei marchi di fabbrica della propria guida. Nelle stagioni 83, 84 e 85 la lotta ovviamente è tutta con Randy Mamola e Freddy Spencer che trionfa nel 1983 e per ben due volte nella 250 e nella 500 nel 1985. In mezzo, 84 e 86, ci sono gli anni di Lawson. I duelli tra questi due piloti della scuola americana sono semplicemente strepitosi. Io ero un bambino all'epoca, avevo solo dieci anni ma ancora oggi me li ricordo perfettamente. Nel 1985 purtroppo per Lawson non c'è niente da fare. Freddy Spencer è il pilota più forte e in sella ad una Honda straordinariamente costante, affidabile e veloce si porta a casa il suo secondo titolo nella 500, come vi ho detto poco fa, vincendo oltretutto anche il titolo della 250. Per Lawson ovviamente arriva un secondo posto con un po' di distacco ma soprattutto la voglia di rifarsi all'interno della stagione successiva. Il 1986 infatti è nuovamente, qui ho sempre il mio foglietto degli appunti, 1986 è nuovamente un anno fantastico per Eddie Lawson che riesce a imporsi e a conquistare il suo secondo titolo mondiale nuovamente in sella alla Yamaha. Nel corso del 1986 Eddie si porta a casa la bellezza di 6 vittorie, puntando come sempre sulla consistenza e sull'avere dei risultati costanti attraverso tutta la stagione. Il 1987 è l'anno di un altro grandissimo idolo, uno dei miei piloti preferiti e cioè l'anno di Wayne Garner. Come accaduto nel corso del 1985 Eddie si presenta al via della stagione 1987 nuovamente in sella alla Yamaha con il numero 1 sulla carena. Nel corso della stagione porta a casa la bellezza di 5 vittorie ma purtroppo porta a casa anche diverse cadute che gli valgono degli zeri in classifica e quindi il 1987 è uno degli anni tutto sommato meno di successo di Eddie perché purtroppo arriva soltanto al terzo posto alle spalle dell'australiano Wayne Garner un altro grandissimo pilota e Randy Mamola che per un soffio non riesce ad aggiudicarsi il titolo. E poi arriviamo nell'epoca che secondo me è la più calda e anche la più bella, i campionati del mondo del 1988 e del 1989. 1988 Eddie Lawson ancora in sella alla Yamaha questa volta al numero 3 sulla tabella porta numero e ha come sempre degli avversari di grandissimo rilievo. Tra questi iniziano a figurare un certo Kevin Schwanz che si affaccia al campionato del mondo proprio in sella alla Suzuki e comincia ad avere anche dei rivali interni come ad esempio Wayne Rene sulla Yamaha. Il 1988 però è ancora un anno in cui assolutamente Eddie dà la paga a tutti. Il suo rendimento costante, la sua guida pulita, quell'atteggiamento di riuscire a vincere le gare come se stesse andando a prendere il caffè al bar. Guardando Eddie Lawson che corre in pista mi viene un pochettino in mente, non so se l'avete vista sui vari social perché ogni tanto spopola, l'immagine di Barry Sheen che prova la moto di Kevin Schwanz con i mocassini e il calzino bianco tra un turno e l'altro. Ecco per me vedere Eddie Lawson correre è sempre stata una cosa di questo genere. Mi sembrava di vederlo andare a spasso. Faceva sembrare tutto naturalmente facile e straordinariamente naturale quello che stava facendo, magari infleggendo agli avversari dei distacchi semplicemente strabilianti. Il 1988, dicevamo, è nuovamente l'anno di Eddie Lawson che si porta a casa il titolo del mondo. Se lo porta a casa spadroneggiando con la bellezza di ben 7, dico 7, vittorie all'interno del campionato del mondo. Ma iniziano ad esserci dei primi dissidi tra Yamaha e Eddie Lawson. Infatti Eddie Lawson è un pilota tre volte campione del mondo e ovviamente ha un onorario da tre volte campione del mondo. Pare che Agostini, che era il team manager della squadra Yamaha all'interno della quale guidava Eddie Lawson, ad un certo punto nel 1988, quando si trattava di rinnovare il contratto, si è andato da Eddie e in qualche modo gli abbia detto che non era in grado, a causa di un taglio di budget, di garantirgli l'onorario e lo stipendio necessario per la continuazione del contratto all'interno della stagione del 1989. Nel frattempo un altro grandissimo team manager che gestiva delle moto non ufficiali da parte di Honda, e cioè Herb Kanemoto, intuendo che si stava muovendo qualcosa all'interno del paddock e stimando grandemente Eddie Lawson, gli propose di fare il salto di casa e quindi da Yamaha passare a Honda e provare a conquistare due titoli del mondo consecutivi con due moto radicalmente diverse. E così all'inizio del 1989, con una serie di intrighi che magari vi racconto in un altro video che vedono coinvolto anche l'altro mio pilota preferito di sempre, cioè Kevin Schwanz, Eddie Lawson si presenta al via della stagione in sella ad una Honda Rotmans gestita da Herb Kanemoto. Nessuno crede che sia possibile per un pilota, nonostante talentuoso come Eddie Lawson, sia possibile appunto vincere per due anni consecutivamente due campionati del mondo su due moto diverso, ma con un campionato del mondo semplicemente strepitoso e anche grazie un po' alla complicità del fatto che il suo principale avversario nella stagione 1989, Kevin Schwanz, sia caduto più e più volte, Eddie riesce a fare il miracolo. Diventa il primo pilota americano a riuscire a vincere per due anni consecutivamente il titolo mondiale su due moto completamente diversi, la Yamaha 500 gestita dal team Agostini e la Honda 500 NSR 500 gestita appunto da Herb Kanemoto. La stagione del 1989, e ci farò un video perché secondo me è la stagione del moto mondiale più bella di sempre, è una stagione che è davvero fantastica, vede delle battaglie incredibili tra i miei due grandi campioni di sempre che sono Kevin Schwanz da una parte e proprio Eddie Lawson dall'altra, con due stili di guida radicalmente opposti. Da una parte avevamo il funambolo texano che con una moto assolutamente inguidabile riusciva a compiere dei miracoli, dall'altra parte invece avevamo un pilota modesto, molto compassato, sempre molto educato, sempre molto all'interno delle righe, un po' come Luca Cadalora se avete visto il video con quel tipo di carattere, che faceva delle cavalcate solitarie con una naturalezza portandosi a casa una quantità di vittorie semplicemente indicibile. La supremazia di Eddie Lawson nel corso del 1989 gli regala infatti il suo quarto titolo eridato. Forte di quattro titoli mondiali e soprattutto con uno stipendio che in qualche modo gli possa garantire la tranquillità psicologica di rischiare la vita, Eddie decide nel 1990 di ritornare in Yamaha, però purtroppo è fermato da un gravissimo infortunio che avviene a Laguna Seca, dove Eddie si rompe la caviglia. Questo lo terrà lontano dai campi di gara per qualche mese e di conseguenza il campionato del mondo del 1990 sfuma e va nelle mani di quello che diventerà un pochettino l'erede di Eddie Lawson. Anche su di lui ho fatto un video che a me personalmente piace molto, ve lo lascio qua in alto, e cioè Wayne Rene. Tramonta l'epoca di Lawson, inizia l'epoca di Wayne Rene. Tutti pensano che Eddie Lawson alla fine del 1990, avendo avuto questa serie di infortuni ed essendo Yamaha in procinto di lasciarlo a piedi, stia per abbandonare il mondo delle corse. In qualche modo tutti pensano che la sua carriera sia per tramontare. E invece no. Invece no perché il team manager che l'aveva fatto arrivare all'interno del moto mondiale, cioè Giacomo Agostini, in quel momento è il team manager di una squadra italiana, la Cagiva, che sta disperatamente cercando da dieci anni di conquistare la prima vittoria. Ovviamente quando si tratta di scegliere un pilota, Agostini cerca un pilota che abbia il giusto rapporto qualità-prezzo e soprattutto possa permettere alla Cagiva di avere davanti a sé un paio di anni di sviluppo per arrivare alla prima vittoria. La scelta di conseguenza cade proprio su Eddie Lawson che accetta e arriva all'interno della squadra italiana. Nuovamente ricordo che per me questa fu una emozione fortissima, vedere il casco bianco e rosso di Eddie Lawson associato alla Cagiva con il numero 7 ancora oggi è assolutamente indimenticabile e davvero una delle moto che vorrei possedere e invidio un caro amico che ce l'ha è la replica Eddie Lawson della Cagiva Mito. Me la ricordo semplicemente meravigliosa, tutta rossa con la tabella gialla e con il numero 7 nero sul cupolino sotto ai due fari tondi. Una roba veramente da perdere la testa. Eddie Lawson passa allora alla Cagiva e comincia a sviluppare la moto all'interno del 1991. All'inizio ovviamente non si tratta di un percorso semplice, ci sono dei problemi di affidabilità, dei problemi di velocità. D'altronde la Cagiva in quel momento è l'unica marca italiana che riesce ad opporsi ai giganti giapponesi e soprattutto in qualche modo a cercare di contrastarli. Grazie alla sua grandissima esperienza Eddie riesce a fare un ottimo lavoro di sviluppo, di aumento dell'affidabilità, della competitività del mezzo e man mano che le gare passano comincia a far sperare tutti i tifosi, compreso il sottoscritto, che il primo successo della Cagiva sia davvero dietro all'angolo, cosa che puntualmente succede nella stagione successiva, nel 1992. All'interno della stagione del 1992, a luglio, in Ungheria, sul Lungaro Ring, Eddie Lawson porta a casa la sua ultima vittoria e soprattutto la prima vittoria della Cagiva nella classe 500 in dieci anni di sviluppo. Si trattò di un gran premio molto strano, con delle condizioni meteorologiche un po' diverse dal solito e che sicuramente favorì una moto come la Cagiva rispetto alle strapotenti Honda, che soprattutto nella stagione del 1992, ve lo ricordo, erano delle moto assolutamente imbattibili. Michael Duan e Wayne Garner in quegli anni erano davvero inavvicinabili, nonostante nel 1992 il titolo lo vinse comunque Wayne Rene. Le moto da battere erano comunque le Honda. Ecco, all'interno di questo mese di luglio molto particolare del 1992, accade il miracolo. Eddie Lawson porta a casa la sua ultima vittoria in carriera all'interno della classe 500 e la Cagiva vince per la prima volta, lasciando nel cuore di tutti i tifosi un sentimento semplicemente strabiliante. Negli anni successivi, Eddie abbandona il mondo delle corse. Il 1992 è l'ultimo anno in cui compete all'interno della 500 e si indica brevemente ad altre competizioni. All'interno della propria carriera, Eddie ovviamente non ha gareggiato soltanto all'interno della 500, ma ha portato a casa anche un'altra serie di partecipazioni con i prototipi 4 tempi, alla 8 ore di Suzuka e all'interno del campionato AMA. Raga, io non ho un aneddoto top di Eddie Lawson. Non ce l'ho, perché è un pilota che mi è piaciuto talmente tanto, di cui davvero ho vissuto le traversie e con lo stesso pathos per cui tifavo per Kevin Schwanz, tifavo per lui. Mi piaceva vederlo seduto in poltrona mentre guidava una Yamaha 500 o mentre stava guidando la Honda NSR 500. Ecco, forse l'aneddoto più bello è proprio questo. Che cos'è di veramente particolare nella carriera di Eddie Lawson? Il fatto che sia riuscito a vincere due anni consecutivamente il campionato del mondo su due moto radicalmente diverse e oltretutto su due team, grazie all'appoggio di due team che non erano i team ufficiali ma erano dei team satellite. Questo secondo me è quello che è veramente caratterizzante all'interno della carriera di Lawson, il fatto di essere un pilota versatile, capace a sviluppare la moto e con uno stile di guida assolutamente cristallino e molto diverso da quello di tutti gli altri americani, nonostante appunto lui avesse iniziato come tutti gli altri a guidare all'interno del dirt track e del flat track. Perché mi piace Eddie Lawson? Eddie Lawson mi piace innanzitutto perché come Luca Cadalora e anche Wayne Reney ha un carattere molto pacato, è sempre stato un pilota all'interno degli schemi, uno che non faceva chiasso, non faceva rumore, quando le condizioni non erano quelle perfette per lui, prendeva la porta e se ne andava, forte del proprio talento e capace di portare il successo anche in squadre nuove. Quello che accade ad esempio nel 1988 quando Yamaha decise di non rinnovare il contratto perché secondo la casa costava troppo e quello che successe nel 1989 nuovamente per lo stesso motivo. Oppure è quello che successe con lo sviluppo della Cajiva nel 1991-1992 quando arrivò all'interno della squadra della casa di Varese in punta di piedi e iniziò a sviluppare la moto nonostante fosse forte di quattro titoli del mondo. Si rimboccò le maniche e decise di iniziare a fare un lavoro che arriverà poi a pagare e ad avere il suo compimento proprio nel Gran Premio dell'Ungheria del 1992 quando arrivò alla prima vittoria della casa. Che cos'altro mi piace di Eddie Lawson? Mi piace lo stile di guida. Eddie, un po' come Max Biaggi e come Luca Cadallora, è un pilota dalla guida estremamente pulito, uno di quei piloti che riesce a sfruttare la pista per ogni singolo millimetro di cui è costruita. Riesce a fare 20-25 passaggi sempre nello stesso punto senza mai sbavare, ma garantendo comunque al pubblico una sensazione, uno spettacolo davvero incredibili. Anche le lotte all'ultimo giro, anche se nel corso della carriera di Lawson non sono state forse quelle più memorabili, secondo me avevano un che del tutto particolare. Gli avversari di Eddie Lawson sono gli avversari, sono i nomi che hanno popolato l'epoca d'ora del motociclismo moderno, quindi quello degli anni 80 e degli anni 90. Inutile citare Freddy Spencer, ve l'ho già raccontato prima, l'ultimo a vincere per due volte il titolo del mondo in due categorie diverse. Kenny Roberts, King Kenny, il primo vero grande americano, Wayne Garner, Randy Mamola, lo stesso Kevin Schwanz che sembrava essere in lizza per il titolo del 1989. Wayne Rainey, Michael Duan, insomma Lawson ha combattuto davvero con tutti. Ed è stato vittorioso in un'epoca in cui i nomi del motociclismo erano veramente pesanti, non che nel momento attuale non ci siano dei campioni di rilievo. Ma quando io penso alla quantità di talento che c'era in pista quando c'erano le 502 tempi, che erano dei mezzi da 150-160 cavalli, che pesavano 115 kg e non avevano controlli elettronici e magari avevano 2 o 3 mila giri di erogazione utile, e penso che nella stessa pista c'erano John Kocinski, Wayne Garner, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwanz, Michael Duan. Caspita, questi sono stati gli avversari di Eddie Lawson. E vincere contro di loro, vincere per quattro volte, con una grandissima continuità, perché i titoli di Eddie Lawson sono dell'84, poi dell'86 e poi 88 e 89 su due moto diverse. Vincere con questa continuità per me sostanzialmente rappresenta essere il più talentuoso di tutti, l'unico che in quegli anni è riuscito a raccogliere così tanto, perché negli anni in cui non ha vinto Lawson i nomi che hanno vinto sono sempre stati diversi. Appunto, nell'83 c'è stato Freddy Spencer, nell'85 ancora a Freddy Spencer, poi è toccato a Garner e poi arriverà l'epoca di Rene. Infine, sviluppare una moto pressoché da zero, con un'affidabilità ridicola, con un reparto corse infinitamente più piccolo rispetto a quello di una casa giapponese, come era quello della Kajiva, beh per me è un altro grandissimo motivo di interesse nei confronti della carriera di Lawson, che si è dimostrato un pilota non soltanto vincente, ma preparato, sensibile e un grandissimo sviluppatore. Molto bene, per il video di oggi è tutto, io spero che questo assunto della carriera sportiva di Lawson, un altro dei miei piloti preferiti, vi sia piaciuto. Se così è, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like a questo video, magari di attivare anche la campanella per le notifiche, perché sto cercando di fare due video nuovi ogni settimana. Inoltre, se questo video vi è piaciuto e come me ci sono degli altri appassionati di Lawson in giro, per favore condividetelo, così magari qualcun altro può darci la sua opinione. Come sempre, io sono in ascolto, quindi se volete lasciarmi dei commenti, correggere qualche inesattezza o in qualche modo farvi sentire, io sono qua e rispondo sempre a tutti. Per il video di oggi è tutto e... ciao riders! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!